allora bentornati live ragazzi uno in chat come sempre aperta verso i relatori eccole qua, aperto questo secondo già 50 persone accaniti, pronti come state? comandiamo? pronti per settimana prossima settimana prossima ragazzi si decidono le sorti dei mercati per non so quanto tempo elezioni americane per chi non lo sapesse secondo me non impatteranno solo sui mercati ma anche negli equilibri geopolitici a livello massivo quindi vedremo che cosa succede per curiosità, tanto lo posso vedere solamente io vi volete che vinca ragazzi? in chat, io non mi esprimo ok, siete ben istruiti bravi, bravi comunque al di là delle elezioni ragazzi tanta volatilità sui mercati settimana prossima l'idea che ho è di star fuori non credo che prenderò parte ai movimenti di mercato la settimana delle elezioni è una settimana dove c'è tanta incertezza spike sopra spike sotto tipicamente ranging esplosivo rientra quindi è molto difficile da tradare però però nelle settimane a venire andremo a vedere in base a che vince quali saranno i settori che si andranno a sviluppare perché vi dico questo perché le elezioni americane e soprattutto le elezioni presidenziali hanno una storicità di decisioni dei presidenti e quindi noi sappiamo quali settori andranno a crescere ok proprio per finanziamenti governativi quindi può essere molto utile capire dove si va nei prossimi nei prossimi anni ok cosa ne pensi del tasso di disoccupazione confermato al 4.1% come avete visto ragazzi poca volatilità poca volatilità al mercato diciamo che Nasdaq ha fatto un ritracciamento sì ma non stiamo avendo grandi esplosioni direzionali fa un po' di back and forth esplode su ritraccia insomma normale amministrazione ok normale amministrazione allora hai già trovato in live durante un'elezione quattro anni fa sì ma allora il punto è che quando fate scalping vi interessa poco di quello che fa la settimana dopo ok però la questione il comportamento tipico di Nasdaq la settimana delle elezioni ma anche di S&P 500 è molto nervoso candele che vengono riassorbite molto velocemente spike sopra breakout che non tengono e ti ritrompe sotto quindi se lavorate a trend following o a struttura non è la insomma la migliore settimana nella quale andare a lavorare tra l'altro chiedo una domanda iniziamo con la live oggi facciamo un po' di di charting e domanda quanti di voi si ricordano questo? in chat questa è un'analisi che abbiamo fatto sull'eurodollaro lavorando su geopolitica lavorando su cotreport lavorando su struttura di mercato e supply ok e il livello finale di target che avevamo dato era proprio questo il mercato si è fatto una bella esplosione in termini di pips perché vi sto facendo vedere eurodollaro proprio adesso dopo che l'ho lasciato perdere per un po' di tempo perché c'è una condizione interessante e oggi ne andremo a parlare allora come prima cosa iniziamo con un'analisi top down ok l'analisi top down è un'analisi che voi fate dell'asset partendo dai time frame più alti sia dal punto di vista volumetrico sia dal punto di vista di prezzo allora che cosa ci mostra l'eurodollaro l'eurodollaro sul grafico mensile ha avuto un rientro da parte della supply precedente che è avvenuto ormai nel 2023 e adesso siamo chiusi all'interno di un range decisionale ok vi spiegherò come sempre non sono consigli finanziari ma è tutto a scopo didattico informativo ma vi spiegherò perché a mio parere questa condizione sta creando un accumulo che ovviamente sarà influenzato dalle elezioni americane dipende da che cosa succede ma vi faccio vedere un po' di report istituzionali e la loro visione per farvi capire scusate questo è verde perché è un breakout rialzista per farvi capire perché secondo me la parte più debole e propensa al cedimento nei prossimi quarters è questa qua ok rispetto a questa condizione che vediamo qua sotto quindi andiamo ad analizzare questa cosa per alcune cose che sono cambiate proprio nell'ultimo periodo ok nelle ultime settimane sono usciti dei dati importanti ho letto dei report istituzionali che vanno a creare una bias molto molto chiara e l'unico tassello che manca sono le elezioni americane andremo a vedere tutto quanto ok comunque analisi strutturale siamo in una condizione che vede un range completo se prendiamo dall'inizio alla fine delle week abbiamo tutto questo margine superiore che è tenuto dai sellers quindi quando provano i buyers aggressivi a rompere i sellers riassorbono tutto quanto e la stessa condizione ce l'abbiamo qua sotto quindi abbiamo un mercato che è chiuso all'interno di un range e ha una struttura a lungo lungo termine rialzista adesso se noi scendiamo di time frame e andiamo sul settimanale vi faccio vedere come costruisco le analisi lungo termine e andiamo sul settimanale vediamo un mercato che ha fatto una rottura strutturale interna la rottura strutturale interna che è stata fatta è questa qua e la facciamo un po' più cicciottella perché è un po' più recente eccola qua questo lo possiamo togliere e quello che vediamo qua dentro è un mercato che nell'uscita da questa condizione di accumulo presentava anche un gap che è questo gap qua questi gap sono molto significativi segnateli questi sono molto significativi per quanto riguarda lo swing vuol dire che l'aggressione è molto forte da parte degli operatori ovviamente qui stiamo parlando ancora non abbiamo incluso niente stiamo parlando solamente di analisi macroeconomica ok scusate di prezzo non siamo andati ancora sull'analisi fondamentale se andiamo ad analizzare e partiamo con i volumi quindi con la visualizzazione in questo caso possiamo andare a lavorare sia con il fixed profile sul range di prezzo precedente quindi tutto quello che abbiamo precedente per capire dove si trovano i livelli di supporto più aggressivi di tutto questo range e vediamo che la value area low quindi quella che agisce effettivamente da rejection del prezzo è questa qua in basso quindi abbiamo due blocchi sovrapposti qua dentro abbiamo una demanda interna e una demanda molto grande quindi la condizione dell'euro dollaro come qua abbiamo visto insieme lo short a mio parere qua può vedere un'ottima flessione real system adesso andiamo a completare l'analisi perché in questa live voglio andarvi nel pratico e farvi capire come si possono strutturare delle analisi lungo termine che vanno comunque a essere in grado di costruire un ottimo vantaggio statistico ok io quando mi do una tempistica di accumulo non vado a mettere la linea verticale cioè tocca e va via ma ci sono delle settimane di accumulo del prezzo in questo caso quindi non sappiamo il livello preciso e tra l'altro bisogna aspettare un attimo che viene scontata l'informazione relativa alle elezioni questo qua invece è il playground di consolidamento quindi questa è una value area bilanciata vuol dire un'area di valore la maggior parte dei contratti vengono scambiati qua dentro e quindi avete questa tipica condizione ranging quando il mercato invece prova andare nella parte opposta quindi nella parte superiore tipicamente viene rigettato questa è una condizione della value area ranging quando invece siamo in trend il mercato tende ad appoggiarsi sul POC volumetrico in questo caso ok della value area in questo caso invece facciamo ping pong da una zona all'altra però perché vi dico che questa zona inizia a costruire i primi segni di cedimento e perché da qua potrebbe essere proprio l'inizio di un trend di lungo termine per l'euro dollaro perché mi baso non solamente sulla price action ma mi baso anche su alcuni dati che voglio farvi vedere questo è un report di MUFG macro che è appunto un team di analisi di un gruppo finanziario sono tutti analisti di alto calibro è un report odierno e la condizione che stiamo vedendo nel Q3 dell'anno ormai stiamo entrando tra l'altro nel 4 quindi alla fine nell'ultimo trimestre dell'anno ma quello che vediamo soprattutto nel Q3 che sono i dati che ci interessano ultimamente rilasciati è che l'Europa sta uscendo alla fine da quella condizione che invece ci ha portato a fare un'analisi ribassista qua perché l'eurozona era molto in crisi a una condizione che diciamo sta avendo un paracadute paracadute nella caduta perché? perché la Germania ha evitato la recessione la condizione di attività per quanto riguarda la Francia ha ricevuto un boost dalle Olimpiadi e l'economia spagnola più o meno galleggia quindi come dicono gli analisti è presto per parlare di fondamentali che vedono un miglioramento dell'eurozona a livello di dati ma sicuramente non abbiamo la condizione disastrosa che c'era stata prospettata qualche mese fa dai report ok? e soprattutto una cosa che voglio farvi analizzare io vi invito a studiarveli questi dati io lo so che magari all'inizio può essere noioso però se il vostro obiettivo è diventare degli ottimi analisti macroeconomici degli assidui lettori di report quindi un conglomerato di informazioni di tutte le varie istituzioni ok? e un analista operatore di swing trading di ottima qualità quindi con una frequenza operativa bassa non potete evitare di fare queste tipologie di analisi ok? perché vi danno veramente veramente una marcia in più e quello sul quale vi porto nel frattempo vedo un attimo sono andato nel vivo dell'azione quasi 200 persone connesse ci siamo mi datono in chat state seguendo perfetto dicevo un altro report fenomenale questo esce ogni mese tipicamente è il forecast globale di UBS UBS la conoscete senza dubbio è una banca svizzera per quanto riguarda i report di analisi a mio parere è una delle migliori al mondo fanno dei forecast di proiezione economica e di analisi di mercato che sono a mio parere al limite del non so come facciano a darle gratuite oggettivamente perché sono eccellenti cioè si potrebbe andare a lavorare anche solamente leggendo questi forecast che sono aggiornati poi su base mensile ma quello che voglio farvi vedere è che la condizione che andiamo a prenderci in considerazione che ci interessa a noi è quella di pagina 7 perché di pagina 7 perché su pagina 7 i report di UBS vanno a mettere in campo gli analisti principali che hanno e quello che voglio farvi notare è l'euro-dollaro ok queste sono analisi che passano tipicamente a tre step il primo step è quello macroeconomico quindi l'analisi dei fondamentali dell'asset e le condizioni geopolitiche che possono impattare sulla valuta di riferimento poi si fa un'analisi di tipo 2 che è un'analisi che può passare o per i volumi o per econometria quindi passare poi per la statistica e la matematica quindi lavorare su analisi situazionale o lavorare su range o lavorare su analisi e price action perché la maggior parte dei bank report lavorano anche su price action ok e andare a vedere secondo questi tre punti con il punto finale che ovviamente viene implementato da tutte le istituzioni bancarie al giorno d'oggi che è l'intelligenza artificiale quindi andare ad aggregare questi dati e fare delle proiezioni che siano il più possibile vicine a quello che può essere un alto grado di affidabilità ovviamente la certezza non l'abbiamo però a cosa su cosa va immediatamente l'occhio se andiamo sull'euro dollaro qual è mettendo insieme i tasselli che stiamo prendendo in considerazione qual è la cosa che notate immediatamente cioè già dicembre ok già dicembre loro vanno a vedere un'esplosione ok cioè si aspettano un post elezione molto aggressivo ok e si aspettano soprattutto un 2025 in crescita costante ok tutte queste informazioni magari all'occhio della persona che dice vabbè sono numeri su un report tanto non ho il timing non so come far swing quindi ci faccio poco ma per una persona che è in grado di fare analisi multi time frame che conosce come utilizzare il cot report che ha delle fondamenta degne di stagionalità che ha una preparazione per quanto riguarda l'analisi volumetrica e non deve essere per forza l'order flow ma può essere anche l'analisi degli operatori degli asset manager per vedere quando coloro che il mercato lo muovono entrano è ragazzi un vantaggio molto importante cioè calcolate che questo report prende ancora in considerazione 1.09 quindi parte da questa assunzione quando il mercato già si è arrivato a 1.07 la proiezione che danno è 1.12 nel mese di dicembre se sotto elezione iniziamo a testare questo livello analizzando questo report UBS si aspetta una rottura poi nel trimestre successivo quindi calcolate questo è un grafico settimanale si aspetta una rottura che porta all'1.14 una proiezione all'1.16 ora immaginate un'analisi con un timing fatto bene con cot report con analisi strutturale dal daily o dall'H4 su un portafoglio comunque un conto fund di importante che cosa può portare in questo caso ci siamo ragazzi questo è un primo esempio che vi faccio stasera di come tramite i report si possano costruire delle ottime analisi e adesso andiamo a fare anche delle valutazioni ulteriori perché vi dico questo allora vi dico questo perché voglio portarvi a fare un qualcosa che unisce l'analisi intermarket oggi andiamo su livelli alti di analisi ok questi sono le stesse metodologie analitiche che usano molto spesso nei bank report vi voglio far fare un ragionamento di confluenza ok un asset che è molto correlato all'euro dollaro soprattutto per fondamentali è la sterlina dollaro quello che vediamo in questo caso penso che si veda occhio una buona correlazione all'ottanta per cento domanda che vi faccio prima cosa analisi di timing che informazione ci sta dando un asset correlato su questa condizione in termini di timing cioè ci conferma che la pressione principale è rialzista o no assolutamente ci conferma e un'altra cosa che potete fare è andare a prendere asset con una correlazione alta ma inversa quindi andare a prendere ad esempio l'inverso del franco svizzero perché il franco svizzero ha un'altissima correlazione ma in questo caso inversa e il franco svizzero ci conferma che sull'analisi intermarket l'euro-dollaro si trova sottoprezzato e quindi abbiamo due principali valutazioni che ci danno una conferma molto importante che l'euro-dollaro da questi livelli sul quale vi ho fatto questa condizione cercherà un accumulo di posizioni e molto probabilmente nelle prossime settimane andrete a vedere gli asset manager che aggrediranno l'asset quindi cercheranno un rialzo dell'euro-dollaro ora potrebbe essere l'elezione il catalizzatore potrebbe ma molto probabilmente liquidiamo qualche minimo qua sotto prima di una condizione di esplosione non finisce qua perché questa analisi ve la porta a un livello successivo voi avete i bank report quindi secondo bank report se l'euro-dollaro vede crescita nel semestre successivo successivo ed abbiamo una correlazione storica strutturale con pound usd diretta secondo secondo le proiezioni dati di pound usd dovremmo vedere ubs che fornisce una crescita nelle prospettive future di sterlina-dollaro ci siamo uno in chat se state seguendo ci siamo ok e se questo è vero allo stesso modo su una correlazione inversa ovvero franco dollaro franco che è a un 85% correlato inversamente all'euro e alla sterlina dovremmo vedere una correlazione scusate una proiezione di ribasso il che andrebbe ad avvalorare l'ipotesi che questo qua è un discount tecnico sull'euro-dollaro e quindi nelle prossime settimane da questo short che ci siamo presi possiamo ricomprarci la posizione ovviamente con analisi tutta a scopo didattico informativo ma potrebbe essere un'ottima valutazione questo è il modo in cui le banche e le istituzioni realmente vanno a fare analisi sui cambi valuta e questo è quello che condividono ora se andiamo sul report la sterlina domanda che faccio la sterlina vede una proiezione rialzista anche se con una crescita inferiore almeno vede un'espansione dell'asset sì quindi abbiamo un'ulteriore conferma a livello strutturale e di dati da parte di UBS domanda ulteriore che vado a fare il franco svizzero che è inversamente correlato a questi due vede al contempo una decrescita in questi in questi valori sì o no sì perfetto ora in termini di tempo in termini di tempo attenzione adesso vi insegno anche a fare analisi di timing quindi è come se fosse una stagionalità ma sotto steroidi cioè una stagionalità sui report bancari lo scarto più grande che abbiamo fra questi dati quando avviene? lo scarto più grande che abbiamo fra questi dati è quello fra il dato corrente e il dato di dicembre perché? perché la differenza è 0,3 siamo d'accordo su questo? la differenza fra dicembre e marzo è 0,2 la differenza fra marzo e giugno è 0,2 settembre è stazionario 2025 perfetto siamo d'accordo che fra questi dati i due scarti più importanti avvengono fra dicembre e marzo 0,3 e 0,3 sì quindi dicembre anche per la sterlina è un mese di spinta molto forte va bene andiamo sul franco lo scarto più grande in assoluto 5 punti 0,05 scusate 0,04 ce l'abbiamo sempre nel mese di dicembre ora UPS ok che cosa si aspetta che cosa devo dedurre che si aspetta dalla condizione delle elezioni assestamento decisionale e volatilità a bestia per il mese di chiusura dell'anno quindi nel mese post elezione quindi che cosa vuol dire che fra il dato corrente dicembre abbiamo praticamente tutto novembre e tutto dicembre quindi in questi due mesi quello che si aspetta il team di UBS è una spinta massiva dell'asset che può andare a rivisitare già in post elezione questi livelli ora le analisi dei bank report per quanto siano eccellenti per quanto sia valido il cot per quanto siate bravi voi hanno un 100% di win rate no hanno un vantaggio statistico ma vi faccio una domanda se su base annua voi foste in grado di fare anche solamente due analisi di questo calibro al mese quindi 24 analisi annuali e il win rate di queste analisi fosse superiore al 50% che sia 60 che sia 70 che sia 80 se siete ottimi analisti con un rischio rendimento di 1 a 2 1 a 3 voi sareste profittevoli sì o no assolutamente sì ok quindi il messaggio che voglio passare con questa live è che a volte prendere da chi ha più risorse di noi e da chi ha più competenze di noi è un qualcosa che non deve essere motivo di vergogna ma deve essere assolutamente motivo di ispirazione ok quindi in questo caso BS ad esempio ha una visione molto chiara sulla condizione relativa alla tripletta euro-dollaro sterlina-dollaro e franco-svizzero ok questa condizione è molto chiara ora se andiamo invece in basso volevo portarvi un attimo sui metalli e ce ne andiamo sui metalli preziosi vediamo una condizione che è in linea con quella che vi ho detto sui metalli ok quindi la condizione che vediamo come trend generale sull'intera macro-categoria dei metalli preziosi è rialzista o ribassista questa è una condizione che io continuo a perpetrare da mesi e da mesi operazioni carry aperti su conti swing da mesi e mesi su gold ok quindi che cosa si vede si vede un po' di stazionamento nel 2025 ma comunque vediamo un piccolo ritracciamento sotto elezioni e il fatto che UPS dia un ritracciamento sull'oro sotto elezioni mi fa pensare a una condizione di assestamento che cosa intendo per assestamento intendo che le elezioni dipende che parte vince ma potrebbero portare alla fine e alla ricerca di diplomazia con un grande conflitto europeo che stiamo vedendo ok l'oro sapete benissimo che è un asset rifugio quindi nel momento in cui si va a vedere equilibrio geopolitico che viene riassestato a un primo scossone ok a uno scossone di riassestamento ovviamente senza guardare le elezioni che ci saranno settimana prossima questi sono solamente supposizioni bisogna un attimo capire come andrà se vi fa piacere continuiamo a analizzare questa parte qua ce la portiamo dietro nelle settimane a venire e andiamo ad aggiustare quelle che possono essere poi le analisi uno dei metalli che va a beneficiare di più della condizione che noi stiamo appunto analizzando in questo caso è il copper ok il rame il rame volevo farvi anche un'analisi sul copper allora copper ha il ticker prendiamo il cfd xxcu eccolo qua allora il copper già ha dato più di qualsiasi altro metallo ultimamente un'aggressione fortissima ok un'aggressione fortissima che ha visto come origine questa demand ok il mercato è tornato a rivisitare questa demand sul weekly la rispettata e la condizione che vediamo in questo caso è di cambio strutturale scusate di conferma strutturale effettuata da poco il settimanale a mio parere anche in linea con le cose che stiamo vedendo di UBS è un riaccumulo ok quindi è una condizione che segue la linea di tutti gli altri metalli che tra l'altro ragazzi sono supportati da una correlazione alta quindi quello che mi aspetto in questo caso è una proiezione rialzista e quando avete un'analisi lungo termine ok se vi fa piacere datemi uno in chat questo report sarà attuale per i prossimi 12 mesi ok quindi se vi fa comodo io lo salvo e ve lo metto dentro il telegram immediatamente e quando escono i report di global forecast di UBS se c'è qualcuno che fa swing al quale interessa io ve lo metto direttamente dentro il gruppo ok in modo tale che potete un attimo andare a vedere confermare queste non sono non è che potete prendere questo e tradare però vi danno delle informazioni importanti anche sul mercato delle equiti tra l'altro anche S&P 500 lo vedono a rialzo non so se c'è qualcuno di voi che fa analisi on chain l'analisi on chain sarebbe la fondamentale dei mercati cripto chiudo la live con un'analisi veloce su bitcoin quello che abbiamo visto è una condizione molto veloce di liquidazione dei massimi questa condizione si vede spesso sotto eventi di analisi fondamentale importante che possono portare poi a ribilanciamenti ma questa condizione che vediamo su bitcoin è in linea con la struttura che vediamo su tutti gli indici perché ricordate che sono mercati correlati quindi non è escluso un riassestamento di liquidazione sotto elezioni ok quindi un qualcosa di questo tipo ma poi io l'asset lo vedo a rialzo come sempre non sono consigli finanziari ma i fondamentali di bitcoin sono rialzisti quello che vediamo è una struttura rialzista quello che vediamo è un accentramento di capitale è un'esposizione delle istituzioni finanziarie sull'infrastruttura il mining sugli exchange sono molto posizionati BlackRock mi sembra ha raggiunto i 400.000 bitcoin qualcosa del genere comunque è un accentramento incredibile questo vuol dire anche che diventa sempre più centralizzato l'asset ma vuol dire allo stesso contempo che c'è interesse istituzionale e questo ce lo aspettavamo dal momento in cui sono stati approvati gli etf però ragazzi i prossimi mesi saranno dei mesi dove si balla dove ci saranno degli assestamenti importanti io vi metto il documento dentro il telegram così potete consultarvelo e buttatemi uno in chat se vi è piaciuta questa era una live puramente tecnica e di analisi se vi piace questo format lo riportiamo settimana prossima andiamo sia a fare check di queste analisi vedendo come si stanno comportando con format e continuiamo con la parte di strategia di rilasci delle news io vi auguro come sempre ragazzi buon weekend a tutti quanti noi ci vediamo venerdì prossimo e grazie come sempre per il supporto ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti